sono martina di done in series e la mia domanda per voi è che ho trovato queste quattro protagoniste molto caratterizzate e anche l'una molto diversa dall'altra quindi vorrei chiedervi qual è stato il lato che più avete amato dei vostri singoli personaggio personaggi e se rivedete anche un po qualcosa di voi nel loro io presente io nella vita sono così come la nonna ecco mi è riuscito anche facile farlo poi c'era questo feeling fra me dove è andato sto ragazzino di nipote sempre nascosto vieni ben qui e quindi stavo dicendo appunto questo che c'era che sembravate nonna e nipote veramente infatti e lui me l'ha detto me lo diceva sempre a volte si mettevano a piangere veramente alcune scene un po più tenere io magari chiamavolo lo stop o Alessandro o Valeria avevano le lacrime io quasi sempre perché poi se non è che si piange addosso ecco perché con l'età si diventa molto più fragili con un dialetto un po d'attruccio di prosa andiamo avanti io ho amato molto della mia olimpia l'aspetto bovary questa che sogna un innamorato che non esiste che si concia come una contessa sulla panchina questa delicatezza di questa poveretta mi è piaciuta tanto del mio personaggio ho amato il fatto che è abbastanza gradassa rispetto a me che sono invece tutta mediata diplomatica un po ipocrita insomma ma sai no ma io io rivendico la mia buona ipocrisia che è una forma di rispetto educazione di civiltà invece questa qua è proprio una che sbrocca così a darsi delle arie che non può permettersi perché il classico guappo e cartone come diceva Sofia Loren un guappo e cartone e questo mi ha permesso di tirar fuori un aspetto represso sicuramente però vero di me che sono guappo e cartone come no ma la prego cinque ma sì Giuliana io sono stata molto contenta di avere poche battute quasi niente facevo tutto solo con gli occhi e qualche volta con una mano non ho l'età non ho l'età per amarti frena non ho l'età per uscire sola con te non è lei lascia che avviva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno ma ora no è stata bravissima brava paola bravissima ciao